buongiorno a tutti ben ritrovati oggi è mercoledì e io bevo allora oggi ho fatto una versione brutta ma del tutto mia personale dei di latte e cereali una roba che alla fine poi vi interessa sempre ciao samuela ok non vedevo i commenti li vedevo ma non vedevo la presenza quindi dicevo come fa a rispondermi se non c'è allora cosa ho utilizzato per la mia colazione ho utilizzato bevanda vegetale ciao veronica e cacao amaro un cucchiaino non fate come me che mi è caduto cioè mi si è rovesciato è diventato un budino al cioccolato il mio buono è buono non si può dire di no poi io ho messo i fiocchi di ceci quindi praticamente zero zuccheri un po di proteine più proteine chiaramente dei fiocchi da colazione normali buon quantitativo di carboidrati di buona qualità e qualche grassino una finita aglio è preso un boccone non fino a più ho aggiunto questo che è un mix di frutta secca e si anche frutta essiccata qui mi pare che c'è mango e pesca essiccati anacardi mandorle e noci pecan pistacchi chiaramente non salati perché ho fatto questa aggiunta perché latte e cereali è una colazione che voi fate spesso che è sbilanziatissima verso gli zuccheri l'ho voluta rendere ricciardina stamattina ho spaccato una tazzina di vedo nuccia hai tutta la mia comprensione ciao Sonia allora come vi dicevo voi prendete latte o bevanda vegetale e ci mettete quei cerealini con la donnina che salta in copertina no che sono integrali sono senza grassi quindi vi danno la la parvenza di salute ma quei cereali sono ricoperti di zucchero e quindi non vanno tanto bene in più hanno un quantitativo di grassi che è assente perché mani mangi grassi fanno ingrassare brutti sostanzialmente voi state mettendo carboidrati complessi nello zucchero e zuccherato dopo quei cereali lì voi dopo due ore avete una fame che vi mangiate anche le gambe del tavolo confermatemi se vi è successo dai io aspetto cosa succede invece con la mia colazione vabbè il latte è latte di mandorla è già di suo bevanda di vegetale di mandorla è già di suo ha qualche grasso e proteina in più sì Alessandro sono pieni di zucchero le gambe della scrivania esatto ora io sto guardando i valori nutrizionali dei miei fiocchi da colazione questi hanno ingredienti ceci trattati con vapore ad alta pressione e laminati non c'è nient'altro per questo non trovavo gli ingredienti poi se voi guardate i valori nutrizionali abbiamo grassi 6 grammi virgola 3 carboidrati 49 di cui zuccheri però 3 grammi fibre 12 proteine 23 capite che non è lo stesso cereale anche per questo è un legume quindi poi cosa ho aggiunto questa frutta secca qua perché ci ho messo anche la frutta essiccata che è tutta ricca di zuccheri eccetera intanto perché stitch lasciami perdere adesso vado a farlo uscire intanto perché grazie a te ho parlato a leggere le info nutrizionali quanti errori che facevo ragazzi può capitare praticamente la frutta essiccata cosa fa contiene è vero si degli zuccheri ma contiene anche tanto potassio perché comunque è un frutto che viene concentrato in alcune occasioni per alcune persone a seconda se dovete dimagrire o meno un po' di frutta essiccata ci può stare in particolare le albicocche sono molto ricche di potassio quelle essiccate e io le consiglio in associazione sempre ad altri alimenti grassi e proteici altrimenti vi fanno salire le gliccemi alle stelle la consiglio per persone che soffrono di pressione alta perché il sodio è responsabile diciamo l'introito di sodio è responsabile di un aggravamento di questa cosa e il potassio contrasta l'assorbimento del sodio concorrono per lo stesso trasportatore questa colazione non credo vada a bere low carb snì nel senso sonia che low carb parte cioè è vero che è una colazione povera di carboidrati ma in realtà la colazione è il momento in cui ne puoi mangiare un po' di più quindi magari eviterai la frutta essiccata però sì comunque una bevanda vegetale così è diventata buonissima perché è proprio al cacao schietto dipende se vi piace il cacao ma chi mi dice non mi piace la bevanda vegetale metti un cuiro di cacao e bene buonissima ciao Simona va bene io direi che di cose ce ne siamo dette vi saluterò e noi ci vediamo spero domani ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti